Dal Cipe arriva un altro milione di euro per il nuovo plesso scolastico di Pacentro che aprirà, salvo complicazioni, per settembre 2018, praticamente fra un anno e mezzo. Ad annunciarlo Onda DG è il primo cittadino Guido Angelilli, subito dopo aver ricevuto la delibera Cipe, che ha stanziato oltre un milione di euro. I fondi a disposizione per l'edificazione della nuova scuola antisismica, frutto della progettazione partecipata, ammontano complessivamente a 1.700.000 euro. Un contributo necessario quello del Cipe è portare avanti l'ambizioso progetto presentato a novembre 2015. La nuova scuola, che ospedirà circa 80 alunni, sarà un cerchio con una piazza all'interno, un orto didattico, una biblioteca, dal momento che l'edificio fungerà da punto di riferimento per la popolazione. Pareti mobili per ingrandire o rimpicciolire gli ambienti in base alle esigenze, attenzione all'ambiente e un occhio alle energie rinnovabili. Saranno utilizzate gli scarti di bosco per riscaldare le aule. Ora Pacentro aspetta il taglio del nastro di una scuola che promuove l'innovazione architettonica ed è stata al centro, sempre nel 2015, di un laboratorio di architettura partecipata. Grazie. Grazie.